E' indagato nella maxi-inchiesta catanese sui presunti legami tra i clan e un vasto sistema di scommesse online. Gli investigatori sono arrivati fino in città, mettendo sotto osservazione l'attività di alcuni operatori locali. Il GIP del Tribunale di Catania ha però disposto la revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Angelo Susino. Il giudice gli ha imposto gli arresti domiciliari, valutando le richieste giunte dal difensore, l'avvocato Giacomo Ventura. Nelle provvedimento del GIP è venuta meno l'aggravante mafiosa, ma per la difesa non ci sarebbero gli estremi né dell'associazione semplice né quelli della truffa. Susino, in base alla versione difensiva, non avrebbe avuto alcun contatto con la presunta organizzazione scoperta dagli inquirenti e ritenuta capace di controllare un sistema di scommesse online milionario. Nell'indagine sono coinvolti altri due operatori locali, Angelo Cavaleri e Ivano Cavaleri, attualmente ai domiciliari. L'inchiesta comunque prosegue e gli accertamenti sono ancora in corso.